E siamo dunque giunti al momento tanto atteso per la stagione di Amici 2014 edizione 13, la resa dei conti finale. Stasera infatti alle ore 21.15 su Canale 5 si consuma la finale che decreta il vincitore di questa edizione del talent musicale più importante d'Italia. Per l'occasione Mediaset, la produzione di Maria De Filippi, ha predisposto la diretta a TV. Ne resterà soltanto uno tra Deborah Jurato, Idier Jack e Vincenzo Durevole. Idier Jack sembrano il leggero vantaggio come vincitore del talent rispetto alla cantante Deborah, mentre Vincenzo ha già vinto la categoria della tazza. Ricordiamo che oltre al titolo di vincitore si assegna stasera anche quello della critica. Il televoto è protagonista questa sera e pertanto giocherà un ruolo fondamentale la popolarità del concorrente per la vittoria finale. Al vincitore oltre ai 150.000 euro di montepremi vanno anche contratti discografici, tour musicali e soprattutto l'avvio della carriera musicale direttamente dalla porta principale.